Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti a una puntata, abbiamo ospite una band, in questo caso parliamo di Isirgauss, abbiamo ospite un membro della band, a questo punto prima cosa la domanda più spontanea, quando nascono Isirgauss e soprattutto come mai questo nome? Intanto ciao caro Pietro e grazie per averci concesso questo spazio per permetterci di farci conoscere un pochettino di più nel mondo. Noi siamo una realtà che ha già una decina di anni, nasciamo come formazione nel 2011, il progetto è nato come il mio progetto solista, infatti Isirgauss sarebbe l'anagramma di Sir Gaudenzio Symphonies. Gaudenzio era il mio nome d'arte al tempo, il nome che mi avevano dato gli amici, e così è nato un pochettino questa idea, questo progettino di rock metal sinfonico, al quale si è unita mia moglie, mia moglie Sonia D'Acolla, che avevo trovato qualche anno prima proprio cercando cantanti da inserire in quello che sarebbe stato un nuovo progetto rock sinfonico, metal sinfonico, ma con un approccio anche un pochettino teatrale. La prima pubblicazione, il primo disco è del 2012, al tempo facevamo musica prettamente in inglese, il primo disco si titola The Album of Memories, e arrivati ad oggi siamo ecco alla sesta pubblicazione, la pubblicazione che appunto uscirà fra poco, quella della quale penso parleremo insomma in questa occasione qui, che è L'anguana e la gemma del mare ancestrale. C'è stata un'evoluzione, siamo passati da una composizione in inglese a composizione in italiano per cercare di avvicinarci un pochettino al nostro pubblico. Il progetto è nato con l'idea di che cosa si voleva fare poi dal vivo. Ecco, noi puntavamo, visto che avevo un trascorso, un'esperienza teatrale, puntavamo a realizzare qualcosa proprio che poi si potesse esibire in questa forma. È un progetto che ha portato anche molte soddisfazioni, devo dire la verità, dal vivo i nostri spettacoli teatrali piacciono molto, anche se comunque noi suoniamo un genere che non ci nascondiamo, insomma è un genere di musica abbastanza underground, però dal vivo riusciamo sempre a coinvolgere molto i nostri spettatori, questo ci dà tanta soddisfazione. E a questo punto, visto che ci siamo, parliamo di questo nuovo disco. Come nasce questo disco? Una cosa tra ispirazioni? Allora, le tematiche dei Sir Gauss si ispirano sempre al mondo che sta attorno a noi, quindi sicuramente al nostro bellissimo territorio, che sono le Dolomiti Bellunesi e il nostro paesino in particolare, che è il paesino di Cibiana di Cadore, questo paesino incantato, incastonato fra questi monti meravigliosi. E le tematiche invece, quelle diciamo un pochettino più sentimentali, più spirituali, più narrative, invece prendono ispirazioni da situazioni di vita che ci è capitato di vivere qua attorno. In particolare questo disco, L'anguana e la gemma del mare ancestrale, prende ispirazione da un murale che è dipinto qui a Cibiana. A Cibiana di Cadore ci sono 62 murales, molto molto belli, che raccontano un pochettino storie e tradizioni di queste montagne. Uno si intitola proprio La storia dell'anguana. L'anguana è una strega, una strega lacustre che si dice viva in queste montagne. è un po' la motivazione che si dava alle varie sparizioni di boscaioli che avvenivano qui nei tempi passati. Noi oggi sappiamo perfettamente che le montagne sono insidiose, basta mettere un piede in un posto sbagliato per finire in un crepaccio e non essere ritrovati mai più. Un tempo queste sparizioni venivano annoverate le creature magiche che c'erano sulle montagne, sulle dolomiti. Tanto è vero che la prima dolomite che è stata scalata, è stata scalata nel 1857. Prima di allora non lo si faceva proprio per paura degli spiriti maligni. Uno di questi era l'anguana, quindi una sirena di montagna, se vogliamo, al cui canto incantatore attrae nel bosco questi sventurati avventori delle selve per poi farli sparire, divorarli o Dio solo sa cosa. Nel nostro racconto la visione dell'anguana è un pochettino più romantica, diciamo. L'anguana è una creatura che cerca di comprendere se stessa e che attraverso il canto si nutre di sogni delle persone che stanno attorno a loro per cercare di avere un'idea, un'immagine del mondo nel quale vive. Non ha mai avuto la possibilità di vedere il mondo all'infuori del suo laghetto che è all'interno di una grotta e quando fa la conoscenza del protagonista di questo racconto decide di scoprire il mondo attraverso di lui. Quindi si concede un giorno mimetizzata fra gli uomini per venire un pochettino a conoscenza di quella che è la realtà e questo porterà a tutta una serie di eventi tra i quali appunto un rapimento della stessa anguana da parte di un soldato prigioniero, un turco che è stato mandato nel paese per lavorare il ferro che la rapirà credendo che i poteri magici di questa anguana possano volgere a favore del suo impero, l'impero ottomano le sorti di una guerra che dura da molti molti anni che di fatto è la Quinta Guerra Veneto-Turca ovvero la guerra di Candia. Tutto questo si svilupperà naturalmente in una storia di fantasia che abbiamo scritto noi, che ho scritto io con una serie di eventi che non voglio neanche raccontare completamente spero che possano essere una sorpresa una piacevole sorpresa per i nostri ascoltatori. Vediamo appunto, abbiamo di fronte la copertina una copertina comunque che appunto descrive e c'è l'immagine dei monti come nasce poi alla fine questa copertina post-studiata in questo modo? Certo, allora nel nostro genere musicale in questo microsettore che abbiamo voluto costruire per la nostra band l'idea della copertina si affianca generalmente all'idea di locandina ecco, le locandine cinematografiche o più teatrali ecco nel nostro caso che in genere vanno con un'immagine a cercare di raccontare tutto quello che è il concept del racconto. Ci sono diversi elementi nella nostra copertina i personaggi del racconto naturalmente ci sono i personaggi principali si intuisce la figura dell'anguana in questa figura misteriosa mascherata in questa strega dalle tinte azzurre proprio per ricordare la sua natura lacustre e ci sono dei personaggi che sono attratti da questa figura uno in particolare con la lanterna è il protagonista il protagonista che interpreto io cantando alcune parti anche nel racconto musicale e a sinistra c'è appunto questa figura invece più orientale medio orientale che è questo soldato fatto prigioniero dalla Repubblica di Venezia che ambisce appunto a rapire questa strega per cercare di portare delle sorti favorevoli al suo popolo l'ambientazione su cui è costruita l'immagine è composta principalmente da due elementi uno è quello della grotta ecco che è un elemento molto identitario per il nostro territorio per il fatto che comunque il nostro è un territorio fabbrile dove ci sono molte miniere e dove molti dei nostri bis nonni andavano a scavare per estrarre il ferro che veniva utilizzato per svariate lavorazioni che si facevano qui in paese e naturalmente le montagne e le dolomiti che custodiscono la nostra preziosissima identità nonché tutte quante le nostre bellezze nella realizzazione dei testi tu hai detto che avete lavorato spesso anche in inglese è più facile utilizzare e scrivere i testi in italiano o in inglese? cioè l'utilizzo della parola è complessa utilizzare tante parole nella descrizione oppure come nell'inglese un pochettino un po' più senso perché l'inglese a volte con due parole si può descrivere una frase enorme mentre con l'italiano bisogna descrivere tanto è più facile l'uno o l'altro? la risposta è veramente complessa secondo me a questa domanda nel senso che dipende molto da quello che uno vuole fare allora scrivere in inglese secondo me si sposa bene con la band che cerca di prima di tutto di avere un approccio molto internazionale con la sua musica quindi se sta cercando di costruire un tema attraverso il suo testo complesso che è un tema che può essere discusso in maniera globale a quel punto la scelta più idonea è sicuramente l'inglese bisogna naturalmente ecco questa è un po' una necessità spesso vedo soprattutto nelle band underground che viene trascorato questo fattore e personalmente mi dispiace molto deve esserci una buona padronanza della lingua inglese quello è fondamentale noi per fare un esempio ecco in questo disco nell'edizione digitale avremo due bonus track che sono due traduzioni di due nostri brani fatti in inglese non è stato per niente facile costruirle fortunatamente ecco mia moglie Sonia la cantante è laureata in lingue alla Cafosca di Venezia e quindi ha una certa padronanza che le ha permesso di portare prima di tutto il significato in maniera tale che fosse comprensibile a livello internazionale perché non devono essere solo parole deve essere una comunicazione deve essere un messaggio la nostra scelta in italiano naturalmente ha due fattori che ci rendono più semplice la comunicazione nel primo luogo noi riusciamo a trasmettere in modo migliore la nostra identità che è garantita proprio dall'esistenza stessa di alcune parole che sono intraducibili spesso alcune parole italiane ma anche parole dei nostri dialetti non hanno un'effettiva traduzione in altre lingue e il poterla utilizzare questa cosa arricchisce la nostra forma di comunicazione in maniera tale che diventi un che di identitario e naturalmente la padronanza della lingua ci permette di poterci esprimere nel migliore dei modi noi avendo appunto questo lato anche più teatrale degli spettacoli che noi facciamo così un pochettino in giro per l'Italia siamo sempre riusciti ad arrivare al cuore dei nostri spettatori attraverso la lingua italiana perché gli permette di seguire tutto quanto il percorso come ti dicevo prima avevamo provato a fare qualche spettacolo in lingua inglese perché la lingua inglese è molto musicale non ci nascondiamo dietro questo la lingua inglese è forse la più musicale in assoluto però è veramente difficile arrivare al cuore degli spettatori è veramente difficile riuscire a trasmettergli tutto il senso di quello che ci sta dietro soprattutto nel nostro caso in cui le parole sono molto importanti perché nascondono veramente i significati profondi per noi la scelta dell'italiano è una forma quasi obbligata c'è da dire che in questa decina di anni in cui ci siamo comunque proposti al pubblico nonostante la scelta dell'italiano e qualche volta anche del dialetto belunese siamo sempre riusciti ad arrivare anche un pochettino all'estero tant'è vero che nel 2015 se non ricordo male traducendo una cover in italiano e in dialetto nostro di Cibiana abbiamo vinto l'Elan Cover Contest il contest che avevano indetto i Nightwish per la realizzazione del video di una loro cover su tante band che si sono proposte da tutto il mondo io e Sonia abbiamo avuto la fortuna con il Sir Gauss di vincere l'ambito primo premio quindi probabilmente anche lo scegliere di esprimerci in italiano si è dimostrata quella volta la scelta corretta ho detto portate uno spettacolo perché in realtà voi mettete in scena con un grande spettacolo sul teatro e quindi rendete vivo la musica come ci si nel parco bisogna divertirsi e far vivere la musica l'emozione che si prova quando si sale sul parco e inizialmente c'è quel silenzio perché impara poi ci sono le luci c'è il buio non si vede poco però si sente un'energia che piano piano cresce con poi senti quell'emozione quell'energia che sale al parco dalla platea sale al parco e voi la rimettete nel parco qual è la sensazione che provi a quel punto? io amo profondamente il teatro ho altre realtà musicali con le quali suono anche in concerti diciamo più tradizionali però il teatro ha una forma di espressione un pochettino diversa ecco non c'è l'elemento del movimento che c'è sugli altri concerti quindi non c'è il pogo non c'è la gente sotto che incita la musica anche con delle movenze del corpo c'è soltanto l'attenzione del pubblico che in quel momento sta rivolgendo occhi e orecchie completamente su di te a quel punto ti sta donando un momento prezioso della sua esistenza per quanto siano due ore un'ora due ore solamente è uno spazio di tempo che loro hanno dedicato completamente a te a questo punto noi abbiamo il compito veramente delicato di lasciare qualcosa a queste persone perché queste persone possono uscire di lì ricordandosi un'esperienza positiva di tutto quello che è avvenuto comincia una sorta di comunicazione che io la vedo sempre un po' come potrebbe essere il corteggiamento che fa un ragazzo quando si trova davanti per la prima volta a quella che potrebbe diventare la sua compagna di vita è una comunicazione basata sui sentimenti su parole che a quel punto sì bisogna essere stati attenti di avere le scelte giuste di avere le scelte corrette è legato soprattutto alla cosa che noi tutti amiamo più in questo settore che è la musica cosa non facile se ci si propone con un genere rock trattino metal perché comunque tante volte le tinte sono oscure sono un pochettino aggressive questa è sempre stata un pochettino la sfida che mi sono posto so quali energie da la mia musica la musica che scrivo comunque anche la musica che ascolto la musica che mi piace devo vedere in quel momento se sono capace di trasmettere questa cosa al pubblico e ti dico sinceramente certe volte ci sono riuscito più facilmente dal palco di un teatro anche se può sembrare molto inusuale piuttosto che non da un palco se vogliamo un pochettino più impersonale come può essere quello di un concerto dal vivo forse per il fatto che comunque a me è sempre piaciuta la musica legata alle narrazioni quindi la musica legata alle storie che scrivo piuttosto che non magari una musica dedicata ad un'emozione di un momento la sensazione di un momento la crescita in teatro è lenta come hai detto perfettamente tu si comincia dalla curiosità iniziale è difficile rompere il guscio inizialmente dello spettatore riuscire ad offrirgli qualche cosa di bello di nuovo di diverso una volta che si riesce ad aprire questo guscio e generalmente ti dico se lo spettacolo è costruito bene si riesce si apre una comunicazione tra le nostre emozioni e le emozioni del pubblico che vivono una danza unica ed è di fatto la linfa vitale che ci ha portato noi Sirgos a perpetuare questa attività per dieci anni noi lo facciamo proprio per arrivare a quel momento magico che è la comunicazione con il pubblico quello è il premio per tutte le nostre piccole fatiche noi abbiamo intervistato diversi attori tra cui la gulotta e tanti altri abbiamo intervistato musicisti quindi voi siete una via di mezzo tra l'uno e l'altro infatti qualcuno mi dice a volte ho la sensazione di quando salgo nel salgo sul teatro entro ho la sensazione dice ma chi è che me lo fa fare poi quando si apre la quarta platea hai capisci perché lo fai e poi perché regali qualche momento di trascorrere dai la possibilità di alle persone che stanno davanti di liberarsi i loro pensieri che in quel momento ci hanno dedicato a te ma poi quando scegli al palco queste persone che ti guardano ti fanno domande oltre a fare domande tecniche perché a volte ci sono anche musicisti però qua è quelle domande che in realtà poi loro volevano fartelo avevano la sensazione di fartelo ma in realtà non sono state capaci di dartela ma dalla tua risposta sei riuscita a fargli sorridere perché in fondo gli hai dato quella risposta che loro forse pensavano di farti la domanda ma non te l'hanno mai fatta c'è sì allora diciamo una cosa che è molto bella ecco tu hai descritto perfettamente infatti ti chiedo se sei anche tu un amatore del teatro o un attore di teatro perché lo descrivi proprio perfettamente esattamente come lo viviamo proprio noi quando saliamo sul palco lo spettacolo non inizia non finisce con l'apertura e la chiusura del sipario c'è un momento bellissimo che è un momento che io amo in particolare che è poco prima dell'apertura del sipario quando il tuo mondo diventa quel piccolo spazio che è il palcoscenico delimitato soltanto dai sipari ed è veramente fantastico e poi c'è la parte quella dopo lo spettacolo dopo lo spettacolo ogni attore se lo spettacolo ha funzionato bene diventa una piccola rock star e quindi il pubblico cerca di avvicinarsi per neanche tanto secondo me per fare una domanda ma quanto per avere la possibilità di toccarti un pochettino da vicino di vedere da vicino come sei fatto se sei vero oppure no generalmente nei nostri spettacoli le domande sono spesso indirizzate al tema stesso dello spettacolo quindi vincente è il tema che tu hai voluto portare per la realizzazione dello stesso qui in questo caso noi abbiamo scelto questa storia identitaria la storia appunto dell'anguana che è una strega molto particolare delle nostre dolomiti quando ci capita di portare questi spettacoli giù in centro Italia o magari nel meridione sono logiche scontate le domande che sono dedicate proprio al nostro territorio quindi come ci è venuto in mente di fare quella quella storia lì come ci è venuto in mente di costruirla e una domanda che spesso ci fanno alla quale purtroppo io rispondo sempre con una certa tristezza è se facciamo questa cosa per lavoro in realtà no ecco nessuno di noi purtroppo riesce a farlo soprattutto quando siamo artisti così underground non c'è la possibilità di avere un ritorno che ci permetta di vivere fortunatamente abbiamo un piccolo ritorno che ci permette di sostenere la nostra attività e di avere qualche piccola soddisfazione attività che comunque non riguarda solo noi musicisti ma anche tutte le figure che ci seguono dal vivo quindi luci bifonico danzatrici certe volte abbiamo portato giocoleria altre volte abbiamo portato rievocatori in modi ovali che si davano legnate con la spada quindi abbiamo si dà la possibilità di farlo ecco quello sicuramente è la soddisfazione un pochettino più grande devo dire ecco non è una cosa scontata sembra che adesso dirò la cosa più logica che possono dire tutti le domande più belle che mi sono state fatte mi sono sempre state fatte dai bambini che generalmente ecco ragazzini soprattutto giovani nonostante ripeto genere musicale certe volte un pochettino aggressivo riescono veramente ad entrare all'interno dello spettacolo alla fine fanno le domande quelle che danno più soddisfazione in assoluto ecco a questo punto noi abbiamo scettato sempre il vostro genere ma se dovessi descrivere a chi ci ascolta perché non tutti conoscono questo genere come lo descriveressi allora questa è una questione che mi trovo affrontare molto spesso quando mi domandano ma che musica fai perché descriverla come rock sinfonico e metal sinfonico non dà l'idea effettivamente di quello che è allora io generalmente cerco invece che di dire un genere musicale cerco più che altro di trovare delle similitudini con quelle che sono le realtà che mi hanno ispirato allora ecco sicuramente per chi è appassionato del genere io faccio sempre un riferimento importante ai Nightwish che sono state una band che mi hanno ispirato tanto o agli italiani Rhapsody Rhapsody of Fire per quello che riguarda invece il lato un pochettino più legato alla colonna sonora i nomi generalmente che porto sono Hans Zimmer che è per me uno dei massimi compositori e sicuramente uno degli ascolti più importanti che ho piuttosto che non John Williams Danny Elfman e tantissimi altri compositori che ci sono più che descriverlo come un genere musicale io cerco sempre di presentare così alle persone che me lo chiedono quello che effettivamente sono cioè dei racconti musicali dei dischi all'interno del quale si utilizza la musica per raccontare una leggenda del territorio per raccontare quella che è una parte della nostra identità presentandoli così generalmente riesco a dare una buona idea di quello che la gente si può aspettare una rappresentazione moderna della classica opera italiana perché no perché no noi ti immaginiamo che tu passeggi con la tua attrezzatura per le montagne e con il blocchetto stai lì scrivi le parole perché vedendo la montagna poi dici questa sì ok perfetto ci andiamo non troppo lontano oppure quanto assichiamo su questa cosa no no è effettivamente così l'ispirazione il grosso dell'ispirazione avviene proprio vivendo il territorio che ci circonda e non solo quello perché in tanti racconti cerco sempre di inserire dei piccoli viaggi che magari i protagonisti fanno in altri territori di quella che un tempo erano l'Europa tra il 1400 e il 1600 ecco nel periodo diciamo a cavallo del rinascimento mi è capitato spesso ecco di visitare molti bellissimi porti del centro Italia ma piuttosto che del meridione porti storici anche del nord Africa o della Grecia e spesso questi ambienti sono poi diventati il sottofondo di alcuni momenti che io magari ho voluto ricostruire in particolare ecco nell'anguana e la gemma del mare ancestrale ci sarà una fuga che a un certo punto farà questo personaggio che rapita l'anguana cercherà di portare a casa sua nell'impero ottomano l'attuale Turchia una fuga che farà a piedi attraverso tutte quante le coste della Dalmazia un paio di brani mi sono stati ispirati proprio da posti meravigliosi come può essere per esempio la vecchia fortificazione di Corfu molto molto bella in Grecia che hanno dato proprio ispirazione a quella che è la musica quello che è il posto lì avviene di fatto la vera ispirazione poi il blocchetto non è tanto il blocchetto oggi fortunatamente abbiamo il telefono cellulare tante volte magari mi viene la melodia mi vengono due parole apro un piccolo messaggio vocale o un registratore del telefonino e canticchio poi questa melodia o mi scrivo giù due o tre pensieri che poi arrivato a casa nel mio studietto di casa che è questa stanza che vedete qua dietro di me comincio a costruire con le tastiere con le orchestre ecco che generalmente sono la base proprio delle mie composizioni con basso e chitarra che vedete qui alle mie spalle fino ad arrivare allo scheletro del brano generalmente io parto da una trama ecco prima di tutto cerco di individuare il soggetto in questo caso io avevo già deciso che il soggetto sarebbe stata l'anguana poi penso cerco di pensare ad uno sviluppo ad una storia che può legare questo personaggio mettendo insieme tutte queste piccole esperienze che ho raccolto mi piace molto viaggiare è una soluzione che io consiglio sempre tutti quanti perché serve non solo per ricaricare le batterie ma anche per arricchire la nostra vita e quei pochi viaggi che ho avuto la possibilità di fare della mia vita sono stati di grande ispirazione per il Sir Gauss mi stavo per chiedere se nasce in prima parola e nasce prima la musica in questo caso già mi hai risposto momenti particolari che ricordi nella realizzazione di questo quest'opera perché non è un disco è un'opera ci sono momenti particolari divertenti stressanti perché poi ci sono guarda la realizzazione di un disco dei Sir Gauss che noi generalmente realizziamo operette sempre hanno sempre la finalità teatrale quindi sono di fatto tutte quante operette questa è sicuramente l'opera più complicata che io ho realizzato fino ad oggi la più complessa ho avuto la fortuna recentemente di avere un rapporto con un musicista italiano molto molto valido Aldolo Nobile diciamo il compositore e il fondatore della band italiana Secret Sfera mi ha accompagnato in un altro percorso musicale con un'altra band che ho Jagartic che saluto approfitto per salutare e mentre lavoravo con lui nella realizzazione dei brani di questo di questo altro progetto mi sono venute spesso molte molte ispirazioni per iniziare a buttare giù un'opera con una visione diciamo arricchita da quello che questo produttore ha fatto questo è forse l'aneddoto più importante che a me piacerebbe portare sicuramente ecco sono molto legato alla storia all'anguana al murale qui di Cibiana che mi ha dato questa ispirazione però le cose che io generalmente porto sempre più di tutto nel cuore sono le collaborazioni con chi mi aiuta a realizzare queste bellissime cose sono due collaborazioni importanti per questo musical la più importante se vogliamo è proprio quella che ho avuta con Aldo che mi ha aiutato moltissimo nella mia crescita musicale mi ha aiutato a pensare a delle soluzioni musicali che io prima non avrei neanche nemmeno potuto immaginare da solo quindi a lui sicuramente devo tanta tanta gratitudine l'altro rapporto importante che ho avuto con quest'opera è stata l'amicizia con Sandro Gerardi regista veneziano che si è appassionato alla mia musica praticamente per caso mi ha scoperto sui social e ha deciso e sta realizzando in questo momento una serie di video che poi andranno messi insieme a costruire quello che sarà se vogliamo il primo film tratto da una mia opera parliamo chiaramente di un prodotto amatoriale non sicuramente un prodotto cinematografico però comunque per la prima volta nella mia vita potrò vivere anche questa esperienza qui l'esperienza cinematografica che per me è un pochettino una novità ecco lui fortunatamente è sì regista amatore però con grande esperienza ci sta indirizzando molto bene su quello che sarà appunto la realizzazione di questo prodotto il primo video che è uscito il video del brano Languana è già stato realizzato da lui su un'idea di come poi verranno fatti tutti quanti gli altri brani tutte le scene successive questa è un pochettino la novità non amo ragionare sul futuro ecco io sono sempre andato avanti un passo alla volta quindi non posso dire che questo è l'inizio di un percorso che sarà il percorso dei Sirgauss per il resto della loro esistenza mi piace però vivere il momento e sto vivendo questa cosa come un'esperienza veramente molto mi ha raccontato appunto del fatto che c'è qualche spettacolo qualche di teatro perché noi potevamo sempre di teatro che sono tutti meravigliosi però c'è quello che ti è rimasto più nel cuore perché quel giorno forse quell'energia quella quell'emozione era tutto così perfetto che forse è stato difficile anche scendere a palco allora ti dico con grandissima umiltà ti porto due esperienze la prima esperienza è un'esperienza mia personale uno spettacolo che abbiamo fatto nel nel 2018 chiedo scusa ad Alviano nel comune di Alviano nella bassa Umbria abbiamo portato una storia di un condottiero veneziano che si chiama Bartolomeo d'Alviano che ha vinto un'importante battaglia con il Cadore e aveva avuto origine in questo bellissimo territorio trovandomi lì davanti a persone che conoscevano un Bartolomeo d'Alviano molto diverso se vogliamo da quello che avevamo costruito noi si è creata una comunicazione di interesse reciproco che è stata veramente magica quello lo ricorderò sicuramente come uno dei giorni più belli della mia vita però se devo dire la sincera verità un altro dei più belli spettacoli che mi hanno coinvolto nella mia vita non è uno spettacolo mio ma è lo spettacolo che se vogliamo mi ha avvicinato a questo mondo per la prima volta che è stato quando ho visto un'opera della PFM della premiata Forneria Marconi appunto Dracula Opera Rock che è stata probabilmente la molla che mi ha fatto scattare in questa direzione un'opera del 2005 prima di allora non avevo mai pensato si potesse fare musica in questo modo ma da spettatore mi sono sentito così tanto coinvolto che mi sembrava quasi di far parte dello spettacolo quindi con molta umiltà ti indico anche quest'altra esperienza che ho avuto e a questo punto mi hai detto ci sono oltre a PFM che ti ha dato uno stimolo ci sono altri artisti che in realtà musicalmente ti hanno fatto poi crescere anche artisticamente? Certo certo sicuramente sì il mondo dell'opera rock ha tantissimi compositori io credo che più importanti da ricordare siano Andrew Lloyd Webber in assoluto che ha scritto musical forse più belli che siano mai stati scritti tra i quali il fantasma dell'opera che è stato per me altresì di grande ispirazione la PFM come avevo già citato e poi naturalmente tantissimi artisti anche nel mondo della colonna sonora come Hans Zimmer come John Williams però anche band rock metal symphony che sono state molto importanti per me in particolare naturalmente i Nightwish e i Rhapsody of Fire italiani io comunque in genere mi appassiono di tutto ciò che mi piace e quindi cerco sempre di trarre ispirazione da un pochettino tutto quello che ascolto con un entusiasmo che spero non si esaurisca mai perché è un po' il motore che mi fa andare in avanti esce in formato fisico anche per il momento usciamo soltanto in formato digitale a breve ci saranno anche sicuramente l'edizione fisica necessaria per i nostri spettacoli del vivo seguite le nostre pagine per avere informazioni più dettagliate ci trovate su Facebook cercando il nome Stiergauss ci trovate anche il nostro canale YouTube sempre lo stesso nome e attraverso queste pagine ci sono tutti i nostri altri contatti di mail e tutto se siete interessati ad avvicinarvi alla nostra musica o ai nostri spettacoli io caro Pietro non posso che ringraziarti per questo spazio che ci hai voluto dedicare faccio un caro saluto a tutti quanti i nostri ascoltatori a tutti quanti i nostri spettatori sperando di avere la possibilità di aver solleticato il vostro interesse e magari di vedervi a qualcuno dei nostri spettacoli Studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro a tutti i nostri spettatori